la targa dell'auto mmm non è che mi può lavorare un documento per cortesia? si, lo vado a prendere, lo vado a prendere dov'è che lo va a prendere? al culo dove va? si fermi? il nome della legge il nome della legge il nome di che? il nome della legge il nome di che? fermi subito della legge della legge mi sta vedendo un infarto ce la faccio più ancora rimasta dai qui? un bello il nome della legge è un bello per l'altro lo vado a prendere è meglio che